Musica Ben trovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni sul territorio. Ci troviamo a Cortina, a Danpezzo, in particolar modo alla sede delle regole Danpezzo, che è la realtà che gestisce il Parco Naturale delle Dolomiti Danpezzo e incontriamo per l'occasione Stefano Lorenzi, che saluto e ringrazio per la disponibilità, che è segretario delle regole Danpezzo, nonché della Parco Naturale Dolomiti Danpezzo. Ben trovato. Grazie, grazie a voi, salve a tutti. Grazie per l'ospitalità, per raccontarci, per scoprire un po' più da vicino quindi questa realtà delle regole e quindi del parco. Innanzitutto le chiederei una presentazione quindi di questa vostra realtà. Il Parco Naturale delle Dolomiti Danpezzo è un parco regionale istituito a Cortina Danpezzo e si trova sulla parte nord di Cortina, quindi tutti i gruppi montuosi a nord di Cortina, partendo dall'Etofane, il gruppo delle cime di Fannis, il gruppo della Croda del Becco, della Croda Rossa e del Cristallo, quindi tutta l'area nord di Cortina, che confina con l'Alto Adige, è all'interno dei confini del parco Danpezzo. Sono circa 11.500 ettari e sono gestiti dalle regole Danpezzo. Il parco è stato istituito nel 1990 ed è stato dato in gestione alle regole Danpezzo, che tra l'altro sono l'ente proprietario della maggior parte del territorio. Ecco, qual è la vostra mission? L'attività specifica delle regole Danpezzo è la gestione e la tutela di un patrimonio collettivo, quindi un patrimonio appartenente alla collettività ampezzana, quindi a tutti i discendenti, noi li chiamiamo i regoglieri, che sono i discendenti delle antiche famiglie originarie. Il proprietario regogliera non si estende solo nel parco, ma anche all'esterno del parco e comprende circa 16.000 ettari di boschi e di pascoli, più o meno tutto quello che c'è intorno alla conca ampezzana e di proprietà regogliera. Essendo proprietari, avendo una storia così antica e un buon governo del territorio consolidato in tanti secoli, attraverso un accordo con la Regione Veneto, l'istituzione del parco ha portato a dare in mano alle regole Danpezzo la sua gestione e da 1990, appunto, per più di tre decenni, le regole gestiscono il parco per conto della Regione Veneto. Ecco, diciamo, l'attività principale comunque come si configura? L'attività del parco principale è la tutela della natura e la gestione dei flussi turistici e lo studio naturalmente scientifico che è connesso a queste cose. La tutela della natura avviene in parte attraverso il controllo del territorio, che è comunque un territorio che ha zone impervie, ma anche molte zone che sono soggette a flussi turistici, soprattutto estivi, molto intensi, perché nelle Dolomiti Ampezzane, anche durante l'estate, noi abbiamo tante persone, migliaia di persone che visitano il nostro territorio. Attraverso la manutenzione e la gestione dei sentieri, delle strade forestali, dei ponti, quindi di tutta la viabilità interna al parco, noi riusciamo a orientare i flussi turistici in modo che non siano dannosi per l'ambiente e siano fruibili e piacevoli per chi poi ci va e li frequenta. Ci sono ben otto vie ferrate, se non sbaglio. Ci sono molte vie ferrate, ci sono moltissime vie di arrampicata. La collaborazione in questo caso con le guide alpine è molto importante, perché la manutenzione delle vie ferrate è un'attività tecnica che viene affidata in appalto alle guide alpine locali, in modo che mantengano la sicurezza nel tempo. All'interno del parco c'è una situazione consolidata di ferrate e non ne vengono fatte di nuove. Si cerca di mantenere in buono stato quelle che ci sono, che peraltro sono molto belle e molto frequentate. E tra l'altro un ruolo importante lo hanno anche i rifugi. Rifugi anche all'interno del parco ce ne sono, alcuni sono di proprietà delle regole, fra l'altro altri sono di proprietà o del cai o di proprietà privata, e servono come punti di appoggio per l'escursionismo. Tra l'altro abbiamo visto che inevitabilmente la pandemia in qualche modo ha fatto riscoprire ancora più la bellezza della frequentazione della nostra montagna, perché per quanto la montagna è stata vista come un luogo salutare, maggiormente salutare, diciamo così all'area aperta, vero? C'è stato un boom quasi di turismo. C'è stato un boom, c'è stato addirittura nello scorso inverno, non quest'ultimo inverno, ma in quello prima dove anche gli impianti risaliti erano tutti chiusi, tantissime persone hanno scoperto la bellezza di camminare con le ciaspe nella neve, lo sci alpinismo ha ripreso a vigore, per cui è stato positivo, e penso moltissimo anche per le persone che si sono anche avvicinate a queste nuove modalità di gestione, di fruizione del territorio. Ecco, lei ha accennato prima a questo ritorno per la stagione sciistica invernale, quella che si è conclusa da poco, dopo due anni di stop a causa dell'emergenza pandemica. Com'è andato, diciamo, questo ritorno anche per voi, che giudizio comunque potete dare dal vostro osservatorio privilegiato e come soprattutto vi state preparando adesso quella che sarà la stagione estiva? Ma l'attività del parco durante l'inverno si riduce perché le montagne sono ricoperte di nevi e le zone diventano sempre più inaccessibili. La zona turistica, soprattutto quella legata agli impianti di risalita, è esterna al parco e dalle testimonianze che abbiamo raccolto con i vari operatori è stato un buon inverno che nonostante ci sia stata poca neve e venuta tutta all'inizio dell'inverno, il freddo ha permesso la conservazione della neve e anche la produzione di neve artificiale, per cui ho letto segnali di soddisfazione negli operatori turistici per questo inverno. Invece guardando all'estivo? Guardando all'estivo noi ci prepariamo come tutti gli anni per accogliere tantissime persone che vengono sul territorio. L'inizio della stagione è sempre un momento in cui si percorrono tutti i sentieri, si controlla che non ci siano piante in mezzo, dove c'è da fare delle piccole manutenzioni o delle grosse manutenzioni si fanno, dando priorità alle attività agro silvopastorali e delle regole anche all'interno del parco, quindi la manutenzione dei pascoli, la predisposizione delle zone, la pulizia delle zone per poi ospitare gli animali che vanno al pascolo durante l'estate e comunque anche presentare un territorio è una sentieristica che sia sicura e che sia pulita e tenuta in buono stato nel periodo estivo. Per noi l'attività ordinaria, cioè la manutenzione costante e silenziosa anno dopo anno, mese dopo mese del territorio è importante, non ci si vede tanto, non è una cosa così eclatante, ma è fondamentale perché un territorio sia ben gestito e conservato. Senta, segretario, lei parlava di attività estive e sono molte le attività anche che voi offrite ai giovani proprio in questo periodo. Durante l'estate noi abbiamo una bella tradizione che è quella di portare tutti i ragazzi, i bambini, i ragazzi locali del paese in escursione. Una volta alla settimana noi mettiamo gratuitamente a disposizione un guardia parco e una guida alpina che paghiamo noi, che accompagna questi ragazzi in sicurezza su tutti i luoghi naturali della valle, perché anche i bambini fin da piccoli imparino a conoscere il luogo dove abitano, imparano ad amarlo e poi a gestirlo quando saranno grandi e che toccherà a loro. Però la conoscenza del territorio e la presa diretta, l'esperienza diretta del territorio è fondamentale per poi poterlo, saperlo apprezzare ed amare. Rimaniamo sempre sull'ambito della formazione, delle attività didattiche. Voi collaborate con differenti altre istituzioni operative, non solo in provincia, non solo in regione. Noi collaboriamo con alcuni istituti scientifici, per esempio con il Museo delle Scienze Naturali di Trento, con cui anche recentemente abbiamo attivato alcune collaborazioni. In questo periodo stiamo lavorando insieme a loro per uno studio fatto sul lago del Sorapis. Lago del Sorapis è una meta turistica che negli ultimi anni è andata molto alla ribalta, è sempre stata una zona molto frequentata. Negli ultimi anni, forse anche grazie a internet e social media, il luogo è quasi sovraccaricato di turisti, nel senso che ce ne sono tantissimi e quindi rischia di degradare un po' il suo stato naturale. È un laghetto alpino, un lago glaciale, che ha un colore molto particolare, molto azzurro e che questo colore è garantito dall'unico emissario che ha, che è il ghiacciaio del Sorapis che sta sopra. Quindi i microrganismi e le alghe che stanno all'interno di questo lago gli danno questa colorazione naturale. Chiaramente nel tempo, nei decenni e nei secoli le cose cambieranno. Noi oggi cerchiamo di mantenere la bellezza e la naturalità di questo luogo. Non è facile perché, soprattutto in periodi estivi, il sovraffollamento di persone porta, i grandi numeri portano anche i maleducati, portano anche le persone che non hanno rispetto. C'è un po' di tutto, ecco, diciamo così. C'è un po' di tutto perché noi dobbiamo intervenire direttamente noi e anche in collaborazione con i carabinieri forestali e con la Polizia di Stato con cui abbiamo attivato collaborazioni specifiche proprio per il monitoraggio di queste zone che sono particolarmente delicate. E poi comunque ci sono anche delle attività riservate comunque agli studenti, penso all'alternanza lavoro, scuola lavoro anche su questo fronte che viene data come possibilità all'interno del parco. Sì, con le scuole superiori locali diamo la disponibilità ai ragazzi di fare alternanza scuola lavoro. inizialmente era un po' all'interno degli uffici, ora preferiamo che i ragazzi si affianchino ai nostri guardi a parco o comunque al nostro personale esterno perché è sul territorio che si vive la realtà del parco e la realtà delle regole. Anche perché sappiamo comunque quanta attenzione sia, quanta sensibilità comunque le giovani generazioni dimostrino verso alcuni temi di interesse generale, di grande attualità, mi riferisco per esempio ai cambiamenti climatici, sappiamo tutte le movimentazioni a livello nazionale dei nostri giovani per la difesa anche di questo argomento. Sì, chiaramente i cambiamenti climatici non sono solo una questione di opinione, ma poi hanno un effetto sulla realtà, sulla realtà alpina in particolare, che sono più accentuate rispetto ad altre zone. Noi qui abbiamo assistito e assistiamo negli ultimi ventenni o più o meno a un graduale innalzamento della temperatura come accade ovunque, ma questo innalzamento porta una maggiore frequenza di fenomeni di disesto ideologico, quindi frane, temporali estivi che sono sempre più incisivi e sempre più forti, quelle che chiamano le bombe d'acqua, che in pochi minuti si scaricano sul terreno tantissima acqua, che il terreno non riesce ad assorbire in fretta, per cui l'acqua in superficie dilava e porta ghiaia e materiale verso valle, interessando non solo le zone naturali, ma interessando le infrastrutture, la viabilità, eccetera, e causando anche a volte disgrazie perché può succedere. Siamo impegnati anche in questo senso qui, noi siamo all'interno del parco responsabili per la buona gestione del territorio, fuori parco, avendo la proprietà praticamente della maggior parte del territorio, ne siamo coinvolti, per cui c'è un'interazione con gli enti poi territoriali, dalla provincia, il genio civile, la regione, l'ANAS, eccetera, per tentare di arginare e comunque gestire questi fenomeni. Lorenzi, una ferita che comunque è ancora presente, coinvolge tutta la nostra realtà bellunese, naturalmente quella di Vaia, ricordo indelebile di quella notte presente ancora nelle nostre memorie. Ecco, come anche voi siete in qualche modo stati toccati da questo uragano e soprattutto qual è lo stato attuale? Allora, la Valle d'Ampezzo è stata toccata pesantemente dall'uragano Vaia, in una notte sono caduti, l'uragano ha portato a far cadere circa 40.000 metri cubi di legname, 40.000 alberi, immaginiamo 40.000 alberi, che sono più o meno gli alberi che noi tagliamo in 8-9 anni di attività, quindi comunque un impatto forte e devo dire che siamo stati fra le valle più fortunate, perché altri valli, l'Imetrof, penso alla Gordino, penso soprattutto al Comelico, hanno avuto danni ancora maggiori, per cui Vaia ha toccato in modo pesante tutte le vallate alpine del nord-est italiano. Subito ci siamo attivati per recuperare questi schianti, perché gli alberi caduti sono comunque legname, hanno un valore commerciale, per cui sia per ripulire, sia per ottenere non solo un danno, ma anche un piccolo vantaggio da questi alberi a terra, li abbiamo recuperati, lo stiamo ancora facendo, nei primi 2-3 anni al massimo il legname non si deteriora, per cui si riesce a portarlo via e a ricavarne qualcosa. In questo caso la Regione Veneto è stata, da un punto di vista economico, è stata un buon sostegno, perché a tutti i proprietari forestali ha dato un sostegno economico comunque consistente. Devo dire che non ce l'aspettavamo, perché il danno era talmente grande, però è stata un'esperienza positiva nella difficoltà. Nella difficoltà, certo. E anche in questo caso, se non sbaglio, avete in corso uno studio comunque con l'Università di Padova. Subito dopo l'evento VAIA, già nei primi mesi del 2019, abbiamo dato la disponibilità all'Università di Padova di avere tre siti omogenei, diciamo tre aree sul nostro territorio, in cui fare una sperimentazione di evoluzione naturalistica. Nella prima porzione di territorio è stato lasciato tutto come era, quindi il legname a terra, gli alberi accavallati uno sull'altro, è stato lasciato tutto come la natura ha causato. In un'altra zona sono stati tolti tutti gli schianti ed è stata lasciata la natura al suo posto. In una terza zona sono stati tolti gli schianti ed è stato risseminato il bosco. Adesso, nei prossimi vent'anni, perché i tempi nostri non sono i tempi del bosco, il bosco ha tempi di decenni e di secoli, si andrà a vedere come l'ambiente e la natura risponde alle tre situazioni, perché la nostra modalità selviculturale, quella che un po' è consolidata all'infrastrazione, interno del Veneto, è quella di lasciare la rinnovazione che avvenga in modo naturale. I semi devono spargersi da un albero all'altro e la rinnovazione del bosco deve essere naturale. In altri casi invece la rinnovazione è artificiale, quindi viene ripiantumato. Qual è la soluzione migliore? Non si sa. Secondo noi è quella di lasciare alla natura fare il suo corso, perché hanno la sua intelligenza e sa meglio di noi cosa fare. In altri casi si vedrà, in base a queste tre realtà, come saranno gli sviluppi interessanti. Bene, noi abbiamo così toccato solamente con lei alcune pillole, alcuni argomenti delle tante attività che il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo porta avanti. Io avrei ancora tante altre domande da farle, ma purtroppo il nostro tempo è finito. Io la ringrazio comunque per la sua disponibilità e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.